Con un grande evento a cui hanno presenziato circa 500 persone, il Centro Commerciale Zeta Cash ha festeggiato i suoi primi 10 anni di vita. I festeggiamenti si sono svolti nell'area esterna del Centro Commerciale, resa suggestiva da bellissimi allestimenti, all'interno della quale, ad allietare la serata dei tanti ospiti, musica con DJ set, lo spettacolo di Renato Ciardo, un ricco buffet ispirato alla tradizione culinaria locale e un'area giochi per i più piccoli. La festa è stata preceduta dagli interventi del presidente dell'Associazione Imprenditori di Molfetta, Maddalena Pisani, che ha omaggiato il fondatore Nicola Zingarelli con un attestato di riconoscimento per l'impegno profuso nell'area industriale morfettese e per essere stato tra i primi ad aderire al progetto di associazionismo degli attori della zona. Presente anche il Vescovo Cornacchia, a cui il sindaco Tommaso Minervini ha notificato la delibera per l'erezione di un monumento in onore di Don Tonino Bello, proprio nella zona industriale, e dunque quale migliore occasione di festa come questa per svelare il prototipo del monumento progettato da Pasquale Denichilo, interamente in acciaio. Dieci anni di Zetacash coglie l'occasione per sottolineare l'importanza dell'area industriale di Molfetta, che dà lavoro a migliaia di persone, non soltanto di Molfetta ma di l'intero territorio, e l'impegno a rilanciare questa zona con importanti opere. Don Tonino comincia oggi con questa consegna, con questa possibilità di questo monumento, un lungo periodo di ricordo che insieme alla regione Puglia e alla città di Alessano stiamo organizzando insieme alle due diocesi di Molfetta e di Alessano. Sarà un periodo non soltanto per una riflessione su Don Tonino a livello locale, ma della sua figura internazionale per l'opera che ha avuto di pace, ricordiamo che è stato presidente di Pax Christi ed è andato nelle zone di guerra durante la guerra di Serbia e quindi come icona della pace. Particolarmente emozionato Nicola Zingarelli, patron dell'azienda, che dieci anni fa ha voluto dare inizio ad una nuova sfida imprenditoriale nata dal sacrificio e dai tanti anni di esperienza come venditore ambulante. Diciamo che è un anniversario che ce lo dobbiamo portare per tutta la vita perché con tanti sacrifici e quando siamo venuti qui siamo venuti senza strade. Abbiamo avuto il coraggio di aprire questa struttura all'ingrosso, poi abbiamo dovuto diversificarci, portarlo al dettaglio perché il lavoro portava in un'altra direzione. È stata un'avventura molto soddisfacente. Nicola Zingarelli però nel raccontare la storia della Z-Cash e il successo negli anni ha espresso un profondo ed emozionato ringraziamento ai suoi dipendenti ingranaggi immobili di una grande e bella macchina imprenditoriale che ha certamente in serbo nuovi progetti in cantiere. Ma sul palco presenta l'intera famiglia Zingarelli con la moglie e tre figli e proprio Maurizio e Vito hanno raccontato ai tanti giornalisti presenti della volontà di ampliare il proprio raggio d'azione con l'apertura di nuovi punti vendita in Italia continuando ad assicurare ottimi prodotti a prezzi vantaggiosi in un mercato in cui la concorrenza straniera è sempre più agguerrita e l'ampliamento in tempi brevi con il settore Oreca. Noi stiamo investendo nel mondo dell'Oreca perché diamo uno sviluppo a livello di turismo in Italia specialmente in Puglia negli ultimi cinque anni ci sono stati dei numeri molto ma molto vantaggiosi dove ora diciamo stiamo valutando e quindi di conseguenza prendiamo atto a questa situazione e quindi avviamo una nuova struttura per il futuro dove gli diamo un assortimento a 360 gradi diciamo dando un pacchetto a chiave in mano a chi vuole investire nel mondo della ristorazione oppure del turismo tutto quello che diciamo beneficia nel mondo diciamo turismo dicendo lidi oppure ristoranti, alberdi, bag and breakfast tutto quello che può essere. Con il passato di papà abbiamo ottenuto tanto perché c'è tanta esperienza dietro per cui grazie a questa esperienza noi oggi riusciamo ad affrontare diversi tipi di situazioni quindi siamo onorati dai nostri genitori che ci hanno guidato per tutto questo tempo.